Puoi evitare queste brutte figure? Vuoi una volta per tutte imparare a cucinare? Non ti resta che tornare a scuola. Sono Mattia Poggi e da più di 20 anni insegno cucina e oggi voglio parlarti di Club Academy, la scuola di cucina, pasticceria e panificazione online. Attraverso percorsi formativi studiati per l'apprendimento online, i più grandi chef entreranno a casa tua per insegnarti tutte le tecniche e i segreti di un vero professionista. Una scuola sempre a tua disposizione su tutti i tuoi dispositivi. Già in tanti, grazie al metodo di insegnamento Club Academy, hanno cambiato radicalmente la loro preparazione. Perché offre un percorso formativo composto da diversi corsi selezionati per i diversi livelli di apprendimento, con video lezioni supportate da dispense, test e supporto tutor. Questo percorso formativo è quindi per te, se sei un professionista affermato che vuole aggiornarsi e studiare nuove tecniche. Uno studente di cucina che inizia il primo approccio a cucina o pasticceria. Una semplice appassionata della cultura gastronomica che cerca di fare un ulteriore passo avanti. Un amante della buona tavola che applica quest'arte con passione ma che non ha mai studiato le basi. Questa è la tua occasione. Clicca sul link qui in basso e scopri l'offerta che abbiamo pensato per te. Club Academy, l'intrattenimento è un attimo, la formazione dura per sempre.